Alle dieci di mattina, rileggendo sul giornale, Quell'annuncio comunale, per maestro elementare, Voglio più fare il pendolare, io voglio lavorare qui. Ora va al municipio, e chiede cosa devo fare, La A, la B, la scegli e trovarmi B, La D, la G, la insegni e trovo Giovedì, Nicola fa il maestro di scuola, e segna una parola sola, Comincia a collare e finisce B, Vale ore di lezione, sono una delusione, I bambini fanno confusione, sulle cose da imparare, In Spagna la D, e scrivono B, e il maestro fanno disperare, Nicola va al municipio, e chiede cosa devo fare, La A, la B, la insegni e trovarmi B, La D, la G, la insegni e trovo Giovedì, Nicola fa il maestro di scuola, Nù c'è un giro di scuola, Cosa,